L'Azzurra Basket Pozzallo si sta preparando al meglio per la stagione 2019-2020 in Serie D, ovvero il secondo campionato regionale e riparte tra vecchie riconferme e nuove acquisti. Tra le riconferme il capitano Nunzio Agnello, il playmaker Marco Modica, il pivot Giuseppe Cascone, il veterano Dario Colosi e la guardia Papazov, nazionalità bulgara, e il pivot senegalese Baba Kira in fase di recupero dopo l'operazione al ginocchio. Invece, per quanto riguarda i nuovi arrivi, giocheranno nell'Azzurra il playmaker inglese Donegal, il gigante pivot tedesco di Lodge, alto 206 cm, l'ala Federico Girgenti e la guardia Francesco Schininà, provenienti dalla Virtus Ragusa. Già dall'inizio di questa settimana è iniziata la preparazione sotto lo sguardo attento del nuovo coach Salvatore Scrofani e il preparatore atletico Corrado Falco. La società con il direttore sportivo Giuseppe Paternò sta definendo con cura tutti i dettagli per essere pronti il 13 ottobre, data di inizio del campionato.